Chiesa locale all'incontro con i giovani. Il Vescovo Palletti presiede sabato a Sarzana la veglia annuale della giornata mondiale. E sono stati anche resi noti i programmi estivi della pastorale giovanile diocesana per la casa di Cassego. Sono previsti tre campi per ragazzi e ragazze nei mesi di luglio e di agosto. A fianco il box centrale è dedicato ad un altro appuntamento, la domenica delle palme, domenica prossima. Il Vescovo Luigi Ernesto Palletti presiede la messa appunto della domenica delle palme con la benedizione dei rami di palma e di ulivo. Alla Spezia la messa sarà a vigiliare, quindi sabato prossimo alle 18 in cattedrale, poi domenica prossima la messa invece a Sarzana alle 10 e 30 nella pieve di Sant'Andrea. Sotto l'importanza della dottrina sociale cristiana nel dibattito sul lavoro e sulle sue prospettive, trovate una riflessione su questo argomento. A centropagina immagini da ascoltare, selezione al museo. Prosegue al museo diocesano di Sarzana in vista del periodo pasquale il percorso in più tappe dal titolo nel segno della croce. E a fondo pagina un altro appuntamento, questo previsto invece per domani. Il libro e l'attuale rivoluzione tecnologica. Quale destino? Un incontro a più voci domani pomeriggio alla Spezia nei locali di Contrappunto. E infine giovedì prossimo al nuovo arriva il film Il miglior regalo. Queste le principali notizie che potrete leggere domani sull'inserto spezzino del quotidiano cattolico avvenire.